Musica Ci sono dei giocatori nati per passare alla storia. Cevanton Uruguayano, 21 anni appena compiuti, è uno di questi. Alla sua prima esperienza nel campionato italiano segna dopo appena due minuti un gol che è divertente raccontare. È un po' meno divertente per il nuovo portiere del Parma, Frey, che non aveva fatto i conti con questo furbetto che si aggira in aria di rigore. Grazie a tutti.